Sindaco, in questi giorni si lamentano i cittadini perché stanno arrivando i bollettini di pagamento della Tari con dei vistosi aumenti. Sì, sono tantissime le segnalazioni purtroppo dei nostri cittadini che stanno registrando questo incremento rispetto all'avviso di pagamento di quest'anno, quindi 2019 rispetto al 2018. In realtà volevo chiarire rispetto a queste richieste che si tratta della stessa tariffa approvata dal commissario, nel senso che si stanno applicando ancora le tariffe 2018, in quanto la nostra amministrazione non ha approvato la tariffa che verrà approvata contestualmente al bilancio. Quindi si sta ancora pagando la scelta scelerata, figlia di anni di gestione scelerata nei rapporti tra Comune e Terramambiente e anche la scelta del commissario, assolutamente non condivisibile, di scaricare il 60% del peso sulle famiglie. Quindi si sta ancora pagando sulla base della tariffa 2018. Approveremo il bilancio e in corso d'anno ovviamente ci saranno poi i conguagli relativi alla tariffa 2019 che sarà appunto figlia dell'approvazione di questa amministrazione con cui, come abbiamo più volte dichiarato, intendiamo procedere ad un avvio della riduzione della tariffa, una rimodulazione del costo del servizio che purtroppo nel corso di questi anni è stato assolutamente inaccettabile. Il bilancio che sarà approvato verso aprile, insomma a fine di marzo, il consiglio si terrà il 29? Sì, il periodo è quello, le scadenze sono queste, ci sarà prima l'approvazione in giunta ovviamente e poi si andrà in consiglio comunale. Per quanto riguarda la tariffa sui rifiuti, siamo in attesa della presentazione da parte della Terramambiente del piano economico finanziario 2019 che sarà poi alla base dell'approvazione della nuova tariffa. Quindi a fine anno, o comunque prima, con l'invio delle note relative al conguaglio, avremo la vera, la reale entità della tariffa 2019. L'auspicio e l'obiettivo è quello di avviare un percorso di riduzione anche attraverso la rimodulazione e la gestione del servizio.